Ciao a tutti e giusi, bentornati o benvenuti sul canale e oggi andiamo a spacchettare il grandi firme Bauli nella versione fondente finissimo allora all'interno ci può essere una sorpresa di morellato, una di prima classe o una di comete non tutte, una di mandarina d'acqua oppure una di lecker oppure una della thun allora l'uovo pesa 365, la mia bilancia dice che nella totalità pesa 442 grammi che cosa può contenere secondo voi? sembrano fare rumore ma mi sembrerebbe un po' rotto o c'è qualcosa che si muove di piccolo oppure c'è la cioccolata oppure è rotto ok, il fondente allora ha il lacetto, lo preferisco così facciamo prima ma vabbè, ok andiamo ad aprirlo sperando che non sia rotto ah ah, è un po' rotto praticamente ha un foro e quindi il rumore che sentivo io sentivo un mini rumore sicuramente è il cioccolato che c'è all'interno eccolo qua allora porta uova mettiamo via è rotto in questo punto sento più rumore no, lo so do il colpo di karate uno, due e tre wow no, vabbè morellato gioielli che cosa ci sarà allora l'anno scorso mi ha perseguitato quest'anno pure va, va, va allora tutto sto peso per avere oh no per avere il bracciale dell'amorellato nello specifico è il quadrifoglio ecco qua ok carino dal mio carino forse anche volevo trovare qualcosa di prima classe oppure di Pollini non so se c'era qua Pollini mi andava bene anche come tre gioielli vabbè ok abbiamo trovato questo io vi saluto vi mando un bacio un abbraccio a presto ciao da Giussi bye bye ciao